anteprima con le palle, quella di playstation 5 scusate la volgarità ma effettivamente se vedete le palle ci sono quindi diciamo non volevo creare questo doppio senso io sinceramente già pensare che siamo giunti alla quinta generazione del console quando praticamente io iniziai a giocare con la ps1 all'età di 6 anni mi viene un po' il magone tra tanti ricordi e tante situazioni personali magari ne parlerò in un altro video perché secondo me questa cosa ha influenzato il me stesso perché praticamente se non fosse stato per questa consolina probabilmente sarei stata una persona diversa però chiaramente questo ne parleremo in un altro video perché oggi andiamo a parlare appunto di playstation 5 e devo essere sincero io mi sento un po' distante da questa console non lo so magari sono i tempi che cambiano diciamo dato che diciamo sono più adulto adesso non riesco a trovare più quell'interesse che ho avuto nelle console precedenti diciamo che fino alla playstation 3 ho avuto un maggiore interesse sulla playstation 4 l'ho presi però veramente secondo me è una lista di giochi veramente inferiore rispetto alle altre console per i motivi che adesso vi andrò ad elengare e quindi diciamo non l'ho utilizzata proprio al massimo massimo adesso vediamo la playstation 5 sull'aspetto del design non so cosa dire perché inizialmente mi sembrava un fake ad essere sincero sembra proprio uno di quei fake che girava da molto tempo però questa scelta diciamo può essere discussa questa scelta tra contrasti tra bianco e nero io penso che il bianco si vederanno molto il sudore nel joypad magari nasconderà la polvere sulla console sulle parti nere invece la polvere si vedrà di più però diciamo questo aspetto si è interessante però diciamo fondamentalmente ciò che interessa appunto è le caratteristiche il funzionamento della console che sinceramente anche questo lo trovo discutibile perché al di là dell'8k che per avere un 8k bisogna avere anche un monitor o un televisore da 8k quindi significa che oltre alla console dovremmo comprare anche un televisore questa è già una cosa che secondo me la Sony sta pensando di collegare la vendita appunto della console con un televisore uscirà con in due maniere una diciamo con le copie fisiche una solo in copia digitale in passato la Sony ci aveva provato con una console portatile solo digitale però diciamo i tempi erano ancora diversi ora può darsi che i tempi sono più maturi e che dire su questa cosa secondo me ha una grande rilevanza perché se abbiamo una maggiore qualità dei videogiochi cioè quindi qualità grafica significa che le case sviluppatrici dovranno spendere anche più soldi per creare videogiochi e quindi loro probabilmente questa qui è una mia ipotesi stanno puntando appunto sul digitale proprio per evitare il costo che può avere una copia fisica perché comunque parliamoci chiaro ai giorni d'oggi le copie fisiche al di là del collezionismo sono non so come dire sono uno spreco uno spreco di plastica uno spreco di tutto perché alla fine comunque il dischetto serve solo per installarlo certo magari verranno a mancare alcuni aspetti fondamentali che appunto potrebbe essere la compraventità dei videogiochi usati questo qua è un altro aspetto da valutare poi per quanto riguarda i videogiochi le esclusive sinceramente sono veramente poche secondo me all'inizio e se vediamo anche su PS4 personalmente è una mia opinione chiaramente non ci sono grandi titoli e questo appunto secondo me è la pecca di andare a migliorare graficamente i giochi quindi le case sviluppatrici non potranno più sviluppare tanti giochi come facevano in passato fino alla Playstation 3 veramente c'erano tantissimi giochi io adesso ho guardato la lista dei giochi PS4 e sinceramente è molto ridotta secondo me questa cosa si andrà sempre a ridurre a ridurre a ridurre a vantaggio della qualità ma al discapito appunto della quantità di giochi e guardando questi titoli gli unici che mi interessano come starete vedendo dal video sono appunto Spider-Man che è stato un grande titolo su PS4 però da quel che ho capito non sarà un nuovo titolo ma sarà una sorta di come posso dire riadattamento del titolo precedente ma con Miles Morales e sinceramente io questa cosa non la capisco secondo me appunto è per andare diciamo a risparmiare sui costi appunto per far vedere la qualità di PS5 però chiaramente un nuovo un titolo totalmente nuovo sarebbe stato sarebbe stato interessante poi come vedete Ratchet & Clank perché io diciamo sono un grande fan di Ratchet & Clank li ho giocati praticamente tutti per qualsiasi console anche quelli più insignificanti anche se dopo il 3 praticamente tutto il resto tutto il resto è spin off tutto il resto è spin off però fa sempre piacere giocare a Ratchet & Clank i giochi sempre vengono sempre questi di Ratchet & Clank nel passato sono stati ridotti il tempo di gioco la longevità appunto questa cosa sempre a me fa fa veramente paura fa veramente paura perché secondo me avremo giochi sempre più brevi di maggiore qualità si magari dinamiche migliori però chiaramente a me piaceva di più ai tempi magari avranno anche un costo superiore i videogiochi e soprattutto in questa playstation 5 non ci sono grandi cambiamenti al di là appunto di come dicevo l'aspetto degli 8k o comunque un ssd che chiaramente oggi è fondamentale i caricamenti saranno più veloci ok ma cosa mi porti di nuovo ora su ps4 c'erano delle novità che volevano rendere la console più social però che parliamoci chiaro non erano neanche utilizzati da da chi gioca cioè praticamente il giocatore della sony è molto tradizionalista cioè non vuole portare molte novità infatti le cose che c'erano sulla ps4 sono state veramente usate pochissimo veramente pochissimo quindi praticamente sempre chi gioca con le console sony è un tradizionista mentre io come dire io sono stato un zonaro nel passato ora diciamo un po' meno ora sono passato più su pc però se andiamo a vedere le console nintendo ok lì c'è un target di giocatori diverso però porta delle novità porta delle cose che uno dice cavolo è veramente interessante è un'esperienza di gioco diversa ma su tutte le console sony al di là di alcuni aspetti non sta portando nulla di nuovo e secondo me c'è stato lento declino sulla sulle console sony dopo ps3 è stato un lento declino secondo me per giusto questa è chiaramente ragazzi è una mia opinione può andarvi bene come non può andarvi però secondo me è così e lo sarà anche per ps5 purtroppo secondo me ps5 non non avrà tutto questo successo secondo me questo questo è quello che penso io e andremo a vedere appunto come andrà come prezzo diciamo ci siamo per quanto riguarda una nuova console siamo intorno ai 500 euro voglio dire ci sta ci sta però a me sarò logoroico però vorrei anche portare delle migliorie di gioco un'esperienza di gioco diversa e invece in questo caso non lo sta portando non lo sta portando assolutamente però spero di contraddirmi in in futuro quindi per oggi è tutto un saluto ragazzi e vi raccomando se il video vi è piaciuto sapete già cosa fare ok Grazie.